salve eccoci eccoci a questa prima parte di questo appuntamento un po particolare un po singolare la prima volta che lo promuovo e che riguarda quiz in diretta quindi tenetevi pronti nella chat a rispondere quiz in diretta su tre piattaforme alle ore 16 per chi sta seguendo in diretta siamo qui grande alfonso vedo che è anche qui ci sei anche qui ciao allora alle 16 su tiktok alle 17 sul mio profilo instagram alle 18 sul mio canale youtube quiz diversi ovviamente quindi adesso iniziamo con la prima batteria di quiz alle 17 seconda batteria di quiz alle 18 terza batteria di quiz vi dico subito che sono quiz reali presi da un concorso reale che riguardano il segmento è quello degli enti locali ma insomma le materie valgono per chi si prepara un po a tutti i concorsi l'importante è esercitarsi quiz con tre opzioni vediamo intanto i collegati vedo che stanno aumentando se volete condividere ovviamente il link della diretta non fa altro che piacere più siamo e più è attendibile magari qualcuno è la prima volta che segue tiktok e quindi ci vuole un pochino vedo che sì che stanno aumentando progressivamente quindi attendiamo qualche secondo allora nella chat dove state commentando buon poveriggio intanto a chi sta arrivando chi non avesse mai seguito queste dirette allora l'unica difficoltà è che non leggete le domande ma è voluto a differenza della terza diretta quella delle 18 su youtube dove vedrete le domande qui invece non sono visibili io li leggerò e vi dirò le tre opzioni a b o c quindi scriverete uno a uno b o uno c per indicare la risposta corretta al quesito numero uno allora vedo che siamo arrivati ad un numero sufficiente perché inizi la competizione allora prepararsi domanda numero uno si parte abbastanza semplice come quesito qual è l'adempimento della prima seduta del consiglio comunale secondo il decreto legislativo 267 del 2000 a proclamare i consiglieri b procedere alla nomina del presidente del consiglio c la verifica delle condizioni di elegibilità degli eletti vediamo un po le vostre risposte ricordo uno a uno b uno c qualcuno ci sta pensando io le ripeto a proclamare i consiglieri b procedere alla nomina del presidente del consiglio c la verifica delle condizioni di elegibilità degli eletti divisi fra la e la c vedo metà si orientano sulla metà sulla b posso ripetere la domanda sì poi non lo farò ma diciamo per ora all'inizio qual è l'adempimento della prima seduta del consiglio comunale secondo il tuel a proclamare i consiglieri b procedere alla nomina del presidente del consiglio c la verifica delle condizioni di elegibilità degli eletti proprio 50 e 50 bene allora diciamo che la prima opzione è andata vediamo quali sono qual è la risposta esatta e perché allora da scartare la a nonostante la metà di voi l'abbia detta la proclamazione degli eletti la si fa a seguito dell'esito delle elezioni in sede di prima seduta si fa la verifica delle condizioni di elegibilità degli eletti la cosiddetta verifica dei poteri sbagliata era la b la nomina del presidente del consiglio premesso che potrebbe esserci l'elezione del presidente del consiglio non la nomina e questo la diciamo l'errore sta sia nel termine sia nel fatto che nei comuni sotto i 15 mila abitanti se la seduta è preseduta dal sindaco e se lo statuto non lo prevede non si procede all'elezione del consiglio del presidente del consiglio quindi verifica delle condizioni di elegibilità degli eletti la c è la risposta esatta vedete una domanda apparentemente semplice però con tre opzioni che potevano trarre in inganno andiamo alla numero 2 quindi scrivete 2a 2b 2c nella risposta allora è un po lunga non la ripeterò perché uno degli esercizi di queste dirette è stare attento all'interlocutore stare attento a ciò che dice l'interlocutore in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 4 della costituzione ogni cittadino al dovere di svolgere un'attività o una funzione a che concorra al progresso materiale o spirituale della società b che concorre esclusivamente al progresso materiale della società essendo quello spirituale riservato esclusivamente alla chiesa c che concorre esclusivamente al progresso spirituale della società 2a 2b o 2c vediamo le vostre risposte questo è diritto costituzionale intanto chi volesse candidarsi a venire in diretta non conosco bene questa piattaforma ma immagino ci sia un pulsante per potersi promuovere grande alfonso che suggerisce di usare il tecnicale ricordo che il tecnicale prevede una regola fondamentale se il quesito contiene le parole solo soltanto esclusivamente si scartano 95 per cento e di più delle volte le parole esclusivamente danno la risposta sbagliata non sempre ma una percentuale elevatissima ma le domande che farà 17 18 sono sempre uguali no 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 alle 17 18 facciamo altre domande quindi ora facciamo un primo set poi si va su instagram e si faranno altre domande alle 18 altre domande e quiziz 18 sarà diciamo la versione più completa la risposta esatta è la a ovviamente concorre al progresso materiale o spirituale della società domanda numero 3 l'organo chiamato a definire le controversie ai fini imu è a la corte di giustizia tributaria b il tribunale ordinario c la corte dei conti intanto giuseppe mi dice che ha usato il tecnicale l'altro giorno per la presa elettiva ottimo va sempre utilizzato il tecnicale allora 3 a 3 b o 3 c l'organo chiamato a definire le controversie ai fini imu vedo che stanno arrivando le risposte qui c'è una sufficiente uniformità ovviamente la risposta corretta la corte di giustizia tributaria la a non è il tribunale ordinario quindi è la speciale giurisdizione con di giurisdizione amministrativa in materia di tributi che è fatta appunto dalla corte di giustizia tributaria numero 4 il titolo terzo del dlgs 267 2000 tratta degli organi di governo del comune assegnando ad essi compiti e funzioni fin qui tutto bene quale tra quelli proposti ai sensi dell'articolo 42 a competenza in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi a la giunta b il consiglio c il sindaco o il presidente della regione ecco che arrivano le risposte quasi tutte a e abbiamo l'unanimità della a vediamo un po se c'è qualcuno che osa tentare qualche risposta alternativa magari ci prova ogni tanto ai quiz può convenire dire vabbè se rispondo come gli altri tanto non passo provo a essere eccentrico ovviamente ecco alfonso eccentrico che dice b dove tutti gli altri dicono a abbiamo il 95 per cento di a anche leonora dice b simonetta aveva già scritto b non avevo visto scusa simonetta vania dice b rileggo la domanda rileggo la domanda giuseppe dice a saperlo cosa hanno risposto gli altri a concorso allora il titolo terzo del 267 tratta degli organi di governo quale fra quelli proposti ai sensi dell'articolo 42 a competenza in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi c'erano due aiuti nella domanda che vi potevano andare a indicare la risposta corretta che è la b b la risposta b la maggior parte di voi è caduta nello specchietto per le allodole perché articolo 42 ecco l'importanza di sapere almeno gli articoli fondamentali già la parola articolo 42 mi dice consiglio non c'è dubbio e poi la parola disciplina generale delle tariffe la disciplina generale del consiglio le tariffe sono della giunta fra l'altro alcune tariffe sono anche del consiglio ma questa è la regola del tu el quindi doppio aiuto bypassato da molti di voi attenzione ogni parola è fondamentale nella domanda adesso una domanda abbastanza lunga siamo arrivati alla 5 scrivetevi intanto quante ne avete indovinate perché vi chiederò qui alla fine di questa diretta quante ne avete indovinate alle 17 su instagram quante ne avete indovinate e alle 18 su youtube quante ne avete indovinate complessivamente 5 ai sensi dell'articolo 73 73 del dpr 445 2000 nel caso in cui l'emanazione di atti da parte della pia e loro dipendenti sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato da terzi due punti a le pubbliche amministrazioni e loro dipendenti salvi casi di dolo colpa grave sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati b le pubbliche amministrazioni e loro dipendenti sono gli unici responsabili per gli atti emanati c le pubbliche amministrazioni e loro dipendenti sono sempre corresponsabili per gli atti emanati cosa mi dice la 5 5 a 5 b o 5 c intanto vedo che ogni tanto ci sono dei cuoricini degli emoticons fate pure fa piacere vedere avere riscontro e soprattutto mettete il mio canale se volete il mio profilo non so come si confesso lo uso mi sembra di avere circa un 1500 follower se volete diventare follower cliccate perché ogni tanto faccio qualche diretta anche qui sopra e vedo che qui metà a metà c ripeto le opzioni a le piai loro dipendenti salvi casi di dolo colpa grave sono esenti da ogni responsabilità b le piai loro dipendenti sono gli unici responsabili c le piai loro dipendenti sono corresponsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni lascio un po più di spazio intanto siamo arrivati a un buon numero una quarantina di partecipanti in diretta vi invito se volete a condividere la diretta il link della diretta e vi ricordo alle 17 su instagram cercatemi su instagram allora bene la risposta esatta è la a di ancona a di ancona le pubbliche amministrazioni loro dipendenti salvi casi di dolo colpa grave sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati cioè se tizio presenta un'autocertificazione falsa poiché io la devo prendere per buona non posso essere corresponsabile io la prendo per buona quando accerto che è falsa gli farò il mazzo a tizio ma non sono corresponsabile di tizio nella falsa dichiarazione ok dipende se lo sapeva ovviamente se lo sapeva è dolo o colpa grave se tizio che già un'altra volta aveva presentato una falsa dichiarazione ripresenta una falsa dichiarazione e non me ne accorgo beh quella è colpa grave quindi la a diceva salvo dolo cioè lo sapevo o colpa grave avrei dovuto saperlo con la normale dirigenza bene quindi la 5 è andata rimaniamo sempre in tema domanda numero 6 l'articolo 53 del dpr 445 in materia di registrazione di protocollo afferma che tra le informazioni che vengono memorizzate rientra a l'oggetto del documento registrato in forma non modificabile b il soggetto del documento ricevuto se disponibile c l'oggetto del documento registrato in forma modificabile cosa contiene il protocollo secondo il dpr 445 del 2000 6a 6b o 6c bene vedo che qui c'è uniformità era abbastanza semplice la a e la risposta giusta all'oggetto del documento registrato in forma non modificabile non modificabile il protocollo insomma ha questa caratteristica 7 le consultazioni referendum locali di quell'articolo 8 del tuel a non sono mai ammissibili b devono riguardare materie di esclusiva competenza locale ci possono riguardare anche materie di competenza nazionale 7a 7b 7c qui abbiamo diversi diversi opzioni le consultazioni referendum locali di cui all'articolo 8 a non sono mai ammissibili b devono riguardare materie di esclusiva competenza locale ci possono riguardare anche materie di competenza nazionale vedo la maggioranza si sta orientando per la a vediamo un po allora devo dire che c'è quasi un uniformità sulla risposta a andrea ne usa il a o b non si può non è la schedina del totocalcio che si può mettere 1x 1x2 si deve mettere una sola risposta quindi bisogna scegliere o a o b e la risposta esatta è la risposta b di bologna certo che sono ammissibili le consultazioni referendum locali ma su materie di esclusiva competenza locale questo è quanto prevede il testo unico degli enti locali 8 vi ricordo facciamo 10 domande qui 10 alle 17 su instagram 10 alle 18 su youtube anzi su youtube ne faremo di più faremo anche un quiziz 8 le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio a costituiscono minori accertamenti b costituiscono le spese ordinarie c costituiscono residui passivi intanto grazie a chi sta mettendo mi piace se volete metterlo ovviamente fa molto piacere consente di visualizzare ancora di più i video ed avere molti più partecipanti grazie a Lenora grazie a Alfonso che hanno messo mi piace come si fa a mettere mi piace non lo so lato utente io sto vedendolo da questa parte penso ci sia un pulsante in basso però se chi l'ha già messo vuole aiutare è gradito allora la risposta esatta la risposta esatta ah ok clicca sullo schermo basta cliccare sullo schermo doppio clic e viene mi piace ripeto la domanda le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio 8a minori accertamenti 8b spese ordinarie 8c residui passivi ok 95 per cento di voi ha detto la c residui passivi e sono i residui passivi domanda che capita in quasi tutti i concorsi quasi tutti i concorsi domanda numero 9 9 è più particolare capita più raramente questa l'autorità nazionale anticorruzione a analizza le cause della corruzione ma non ha il compito di individuare gli interventi ai fini della sua prevenzione e contrasto b analizza le cause della corruzione e individua gli interventi ai fini della sua prevenzione e contrasto c non si occupa di analizzare le cause della corruzione ma individua unicamente gli interventi ai fini della sua prevenzione e contrasto cosa fa l'anac 9a 9b o 9c e se volete aggiungere nei commenti con quale strumento lo fa ecco le risposte stanno arrivando non c'è un'uniformità intanto bravo alfonso il piano nazionale anticorruzione l'acronimo è pna pna piano nazionale anticorruzione con il quale l'anac la risposta giusta è la b analizza le cause della corruzione e individua gli interventi ai fini della sua prevenzione e contrasto in primo luogo quale diciamo strumenti per se stessa per la stessa autorità e poi come linee guida per le amministrazioni ai fini dell'adozione del piao sezione anticorruzione del piao ultima domanda di questa diretta la numero 10 ai sensi della legge 241 del 1990 qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi destinatari diretti a l'amministrazione non è tenuta a notificare loro alcunché necessari a concludere il procedimento b l'amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento c l'amministrazione è tenuta ad aggravare il procedimento in virtù proprio dei numerosi soggetti coinvolti qual è la risposta esatta alla 10 10 a 10 b o 10 c aspettatemi poi non andate via perché conclusa questa diretta vi chiedo vi faccio un'altra domanda e poi magari facciamo un piccolo dibattito tanto grazie ai moltissimi che hanno messo like vedo che ha aumentato notevolmente il numero di like allora ovviamente nella 10 andava scartata la c l'amministrazione è tenuta a gravare il procedimento un abominio dal punto di vista giuridico normativo filosofico ed è giusta la b l'amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'avvio del procedimento quindi ai soggetti a cui possa derivare un pregiudizio hanno titolo a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento adesso vi chiedo di scrivere nei commenti lo si può aggravare solo se l'istruttore lo richiede ma non relativamente a questo caso non al caso della comunicazione di avvio del procedimento allora alfonso bravissimo 10 su 10 non avevo dubbio ormai ci conosciamo da anni da quando è che alfonso ecco scrivimi da quando è che segui ecco puma non avevo dubbi nemmeno su puma 10 su 10 vania 8 dimmi magari quali hai sbagliato metterei like ma non lo trovo doppio clic sul video per mettere like 9 su 10 9 su 10 scrivete pure anche quella che avete sbagliato alfonso da aprile 2022 ah nemmeno tantissimo diciamo sei un follower post covid 7 su 10 ancora non ci sono 7 su 10 questo era un livello abbastanza semplice quindi forse un po' la concentrazione o ancora lo studio ci vuole vania da febbraio 2023 freschissima abbastanza fresca z ha sbagliato la prima poi la indovinate tutte ok bene la prima si si poteva essere tratti linguanno eleonora segue il corso da poco io da una settimana febbraio 2019 liana una delle primissime perché diciamo allora io faccio corsi di prepara canzone concorsi dal 1999 forse il primo 99 poi fino al 2004 circa poi blocco dei concorsi anche io insomma ho fatto poi altre cose ho scritto testi libri fatto altre cose e ho ripreso intorno al 2019 all'inizio del 2019 e poi con un boom durante la pandemia meno una settimana e periodo di prova finito in ragioneria ehi la grande alfonso un paio d'errori liana si allora se avete domande particolari richieste altrimenti ricordo a chi si è collegato più tardi che oggi pomeriggio funziona in questo modo abbiamo fatto questa diretta qui su tiktok alle 17 cercate il mio profilo instagram chiarelli underscore simone e faremo altre 10 domande simili su instagram instagram alle 17 scusate alle 17 instagram alle 18 classico mio canale youtube dove faremo le ultime 10 più un quiziz più altre cose il pna a durata triennale annuale triennale anche il pna comba 8 su 10 valentina conferma triennale il piano nazionale come quello delle amministrazioni perché non è altro che un piano anticorruzione tale a quello che adottano le amministrazioni ma ogni anno viene aggiornato certo quasi tutti i piani triennale sono ad aggiornamento annuale 10 su 10 quiz su innovazione digitale lo possiamo fare dopo forse c'è qualche domanda su innovazione digitale ora non so se ci sarà ok vedo che state commentando aggiornamento annuale benissimo se avete domande per me o considerazioni richieste curiosità non mi domandate sul tagliadonei perché ho fatto una diretta sul 20 per cento del tagliadonei regolamento statuto provincia è diverso uguale denti locali presso che identico presso che identico nuovi concorsi in vista sì sì continuamente diciamo che l'estate c'è una ripartenza verso maggio giugno luglio e poi la sosta classica digitale sarebbe per i test snadi martedì lo so però diciamo che vediamo dopo se riesco a fare qualcosa allora se lo trovo nella diretta su youtube delle 18 qualcosa specifico sul digitale dopo il commento del codice appalti cosa inizierà prof la costituzione sicuramente farò il commento alla costituzione e forse anche il 118 20 per cento tagliadonei la schifezza del secolo non credo non ho questa non è la mia opinione ricordatevi una cosa e chiudo su questo tema che è troppo divisivo per cui non amo le cose su cui non si ragiona e si prende troppo posizione di di pancia invece che di testa i posti messi a concorso sono sempre quelli non dipendono dalle regole dei concorsi se un'amministrazione deve assumere due persone rimangono due persone che la gradatoria sia formata da 100 o sia formata da due rimangono due posti quindi i posti a concorso prescindono dai decreti prescindono dalle regole dei concorsi saputo questo voi vi giocate sempre gli stessi posti quindi non è il 20 per cento non 20 per cento il 20 per cento il limite del 20 per cento favorisce chi si prepara di più sicuramente perché ha possibilità di finire fra i primi e invece quando la gradatoria sono lunghe si ha più possibilità di essere attinti anche in basso la gradatoria non certezza ma possibilità questa è una questione matematica dopodiché ognuno ovviamente all'opinione che crede del del decreto della norma del governo di tutti non ci interessa però dal punto di vista ricordatevi questo non perdiamo di vista che non aumentano i posti a concorso in funzione del 20 o del 30 per cento mi hanno bloccato un concorso dove fare a luglio quando lo sbloccheranno non lo so dire a volte non è che viene bloccato a volte ci sono aspetti che magari non conoscete che sono di back office di concorsi che sono bloccati semplicemente perché il presidente della commissione è stato male non si è trovato una data in cui tutte e tre i commissari potevano riunirsi per fare le prove perché un andava al mare quella andava al montagna quello si è separato fatti anche personali molto quello si è ammalato molto contingenti che non è una scelta di nessun genere dietro queste cose non c'è politica non c'è architettura nella maggior parte dei casi poi a volte ci può essere può fare commento di diritto sanitario non è facile trovare quiz di diritto sanitario è un po' settoriale quindi tendo a fare domande un po' trasversali per consentire un po' a tutti però l'hanno sospeso per l'emergenza vendita romagna ovviamente sapete che c'è un decreto che prevede che qualora uno studente sia residente in uno dei territori soggetti ad alluvione e chieda la sospensione delle procedure concorsali cui partecipa l'amministrazione è tenuta a sospenderlo quindi sia che si svolga in emilia emilia marcha e toscana sono le tre regioni coinvolte sia che si svolga in qualunque parte del territorio nazionale quindi direi norma sacrosanta anche se un po' invasiva si sarebbe potuto optare per la soluzione di fare le prove in una seconda mandata secondo lei 400 candidate per due posti sono tanti se uno vince vince che dietro ce n'abbia 100 200 300 io sono davanti se uno parte con l'idea di vincere va e vince e quindi che siano 400 500 1000 2000 meglio ancora chi partecipa alla maratona è più bello vincere una maratona con 400 persone che una maratona in due ok quindi direi che finché continuate a guardarvi indietro non vincerete le maratone non cercherete di vincere le maratone poi magari uno non le vince lo stesso non dipende dalla voglia soltanto di vincere però bisogna andare convinti delle proprie possibilità e se fra i 400 c'è qualcuno più bravo di me chapeau benvenga che vinca al posto mio bisogna anche essere sportivi chi di voi ha fatto sport sa che ci si complimenta con gli avversari che ci battano e non ci si lamenta con l'arbitro con le regole col pallone sgonfio con tutta questa menata da bar sport che non serve a niente si prende si accetta si ci si complimenta con l'avversario e si pensa alla prossima partita per cercare di vincere la prossima partita ci si farà non ci si farà adottate una filosofia sportiva non alla decubertà non è l'importante partecipare concorsi non è l'importante partecipare si va per tentare di vincere ma sapendo che se non si è i migliori amen vinca il migliore vediamo se ci sono altre domande altrimenti io colgo l'occasione per i diritti soggettivi sono sempre di competenza del giudice civile non sempre diciamo che tendenzialmente sì il riparto di giurisdizione è diritti soggettivi giudice civile interessi legittimi giudice amministrativo ma possono esserci casi in cui emerge un diritto soggettivo a fronte di un provvedimento amministrativo anche davanti al giudice civile così come il giudice amministrativo può essere chiamato a valutare del diritti soggettivi anche ai fini della risercibilità sono eccezione alla regola aspettiamo con ansia la gara sna yes la sna sarà molto molto interessante auguro a tutti quelli che si sono preparati bene di andare e giocarsela fra l'altro è una prova veramente impegnativa dal punto di vista delle dei contenuti delle materie forse il percorso formativo che ho fatto più intenso più intenso tant'è che abbiamo fatto anche un corso intensivo per la sua preparazione allora bene non vedo altri quesiti e quindi ci vediamo fra una mezz'oretta alle 17 su instagram a presto ciao ciao